Scopo quelle bombe, la scopo in faccia, la scopo in bocca, vai 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 vai, oh mio dio, minghie, stasera scopo eee, 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 sono felicio, minghie, Swag, 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 swag con voi ragazzi, sempre swag, dai, dai ragazzi, dai ragazzi, Io vorrei vedere, io non vorrei, vuoi capire anche che area locale? Ma no scusi eh. No, no, non, non ce la parla non č qua le e no 221... ...beh eee l'arte, non, sempre l'arte viene capita. E allora eee, a questo punto, eri credito, eş, cioè... Noi ci siamo e andiamo avanti. Inghie